Ciao Daniele, ho letto che la direttiva europea sul copyright è stata approvata il 26 marzo 2019 per un centro del Consiglio dell'Unione Europea atteso per domani Nicola Antoni De Palma Sì, la direttiva sul copyright è passata che poi è ridicola, fondamentalmente ridicola non so se sapete com'è la direttiva sul copyright spendiamo due parole su sta roba qui che secondo me ci sarà da divertirsi perché cosa ha fatto il sistema? il sistema, praticamente la direttiva sul copyright presuppone che qualunque cosa che sia stata scritta ipotizziamo da, che ne so, un giornale, la Repubblica la Repubblica pubblica i suoi articoli ora da quel momento in poi per far apparire quegli articoli quindi se tu vuoi condividere quell'articolo su Facebook Facebook deve pagare il copyright alla Repubblica Google, se lo vuole mettere nelle SERP le SERP sono le search engine come si chiama? SERP? search engine search engine result page quindi le pagine di risultato quando tu scrivi le SERP sono quelle pagine che ti vengono fuori quando tu scrivi qualcosa che ne so, tu scrivi partita, interlazio ok e Google ti fa uscire tutti gli articoli dei giornali ecco, Google dovrebbe pagare a quei giornali perché lui gli fa pubblicità cioè per cui lui fa uscire gli articoli ed è ridicola perché Facebook, YouTube, Google gli hanno detto sì, bello caro sai che ti diciamo noi? sei tu che devi pagare noi se ti fanno uscire noi ti spegniamo completamente poi voglio vedere tu come campi e che sarebbe ridicolo perché così se fosse veramente così e secondo me la cambiano perché è ridicolo cioè non sono i giornali che hanno potere oggi se tu sparisci da YouTube da Google da Facebook tu non esisti tu non esisti oggi tu non è che esisti perché c'è una carta identità tu esisti perché hai una presenza online se non hai una presenza online non sei nessuno e se Google, YouTube, Facebook decidono che la Repubblica l'Espresso e qualcun altro spariscono non se li incula più nessuno le loro vendite andranno a picco e voglio vedere come gestiscono sto copyright perché tutti i grandi hanno detto ciao perché se la legge sul copyright secondo me è stata fatta la mia visione è stata fatta per colpire ovviamente questi grandi perché probabilmente non si stanno piegando a determinati voleri e stanno diventando troppo grandi oggi Google ha più informazioni della CIA oggi Google nei suoi server ha tutto cioè ci conosce meglio Google che nostra madre o che noi stessi il che è un potere devastante in mano a un'azienda commerciale ed è un potere che probabilmente chi comanda il mondo vuole avere sotto controllo se Google dice ciupa questa cosa qui non gli va bene e infatti stanno martoriando sempre di più Google Facebook YouTube questa legge sembra fatta un po' per loro a noi ci tocca fino a un certo punto perché sempre questa cosa è la legge c'è il concetto delle fake news per cui questi grandi Espresso Repubblica quindi i grandi del sistema che sono loro che fanno le fake news lo sappiamo da sempre perché sono più che dimostrate questi devono decidere se tu fai una fake news o no quindi se tu scrivi su fai il video su il ponte di Genova è stato fatto esplodere ah fake news non è vero cazzo fa a saperlo che non c'è neanche una non c'è diciamo che il ponte di Genova mi rodo il culo è una fake news la fake news lo decidono loro e ha in modo insindacabile cioè insindacabile giudizio dei creatori di notizie decidono quello che è giusto e quello che non è giusto si chiama censura questa cioè al paese mio si chiama censura quella che c'è sempre stata nei paesi sotto dittatura adesso la fanno in maniera te la vendono come legge sul copyright e noi ce la beviamo ma intanto il popolo ormai è talmente tanto rincoglionito che si beve qualunque cosa lo vediamo con Genova quanti mesi sono passati cosa era agosto settembre ottobre dicembre febbraio marzo apri sono otto mesi otto mesi cioè otto mesi nessuno che è andato a incazzarsi con quella gente dice ci fate vedere sti cazzo di video di come cacchio è caduto sto ponte no io ne frega a cazzo a nessuno manca i genovesi quindi va bene così vedo perché qualcuno mi chiedeva ma perché non fai più video sul ponte di Genova che devo fare cioè non gliene frega un cazzo a quelli che ci vivono là sotto figurati a me ma perché lo devo fare io le mie ricerche me le sono fatte per i cavoli miei ho delle mie teorie ho delle mie prove e la mia curiosità me la sono soddisfatta io ho la mia versione ma non ho alcuna intenzione di dirla visto per come viene trattata e allora se devo essere trattato da sta gente rischiare magari il copyright rischiare la chiusura di un account perché dico la mia versione delle cose in una nazione in cui la libertà di parola è ridicola perché siamo all'ottantacinquesimo posto manco peggio del Burundi cioè in piena dittatura ma allora sto zitto racconto cazzate gioco coi scimmiette coi minions e buonanotte così cioè il concetto del giullare il giullare cazzeggiando ti dice a posto così ti dice quello che vuole dire ma lo dice cazzeggiando perché se lo dico serio poi magari ti viene fuori la legge sulle fake news e ti chiudono un account magari assieme a tutti i video del salto quantico e tutto il resto che non è assolutamente il mio interesse io non faccio guerre cioè non me ne frega assolutamente niente non perdo il mio tempo a fare guerre e non perdo il mio tempo a fare guerre né a fare né a dover dimostrare niente a nessuno quindi c'è gente che si diverte a fare guerre c'è gente che fa di tutto per attirare attenzione c'è gente che vuole vuole ottenere il suo beneficio e via a fare guerre